Il dissesto idrogeologico in Italia La causa principale di alluvioni e frane è il dissesto idrogeologico, ossia lo squilibrio che le attività umane provocano nel rapporto tra le acque e le condizioni del terreno. Attività estrative incontrollate, disboscamento e cementificazione sono alcune degli interventi umani che spezzano questo rapporto. In Italia le regioni maggiormente minacciate sono la Valle d'Aosta, l'Umbria e la Calabria, i cui comuni sono tutti a rischio, e le Marche, la Toscana e il Lazio, in cui è a rischio la quasi totalità dei comuni. Le regioni con le più basse percentuali di comuni a rischio sono la Sardegna, la Puglia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Tuttavia anche in queste regioni le frane e le alluvioni hanno provocato negli ultimi anni vittime e danni. Oggi sono minacciati in vario grado da frane e alluvioni 5.581 comuni, equivalenti al 70% del totale. Grazie.